È un test che vi verrà spiegato molto bene, magari avrete anche delle informazioni interessanti che non conoscevate e per chi vuole magari stabilire se è già un buon sognatore, magari non lo sanno, non ci fa nemmeno caso, è spontaneo eccetera, ecco in occasione di questo test lo potete scoprire. Benissimo, benissimo. Allora Daniela se tu mi hai permesso io intanto lancio, proietto queste slide. Allora mi raccomando tutti quanti, lasciamoli ancora, aspetta un minutino, prendete carta e penna di modo che voi dovrete rispondere alle domande come vero o falso. Allora se noi faremo diciamo delle domande, vi metteremo qui delle domande e poi vi spiegheremo di che cosa si tratta. Se vi corrisponde questa determinata domanda o questa determinata affermazione, voi mettete vero. Quindi mettete un punto, se invece non vi corrisponde, se è falsa, se la risposta è no, mettete zero, ok? In base poi al calcolo del punteggio si avrà un determinato risultato che poi andremo a commentare. Quindi o vero o falso. Se è vero uno, se è falso mettete zero. Giusto? Allora, mi raccomando se siete tutti quanti pronti io direi che possiamo cominciare. Allora aspetta Daniela che... Sì, posso anche aggiungere che se si prendono carta e penna magari si tirano giù anche l'oggetto del test, quindi queste dieci pseudo domande e magari se si vogliono esercitare poi hanno una traccia da seguire per vedere se ogni giorno hanno un punto in più eccetera. Sì, possono farselo anche a casa. Ok, allora vediamo un po', eccolo qui, vediamo un attimo qui i vari punti, quindi sentiamo un po', Daniela, spiegaci un po', dai. Bene, allora questo è il test del sognatore. Premetto che tutti sognano, ma non tutti sognano ovviamente allo stesso modo e non tutti si ricordano i sogni. Quindi in questo test ci sono delle domande che servono a valutare il vostro modo di sognare. Quindi può esserci qualcuno che non risponde niente perché non si ricorda i sogni, non gli interessano, eccetera, ma magari oggi è curioso, quindi ci sono dei punti importanti da valutare. Io ve le spiego passo passo. Quindi in questo caso nel punto 1 vado a letto rilassato, se vado a letto rilassato allora mi metterò 1, un punto. Se invece non vado a letto rilassato scrivo 0, poi voi direte ma io delle volte sono rilassato, delle volte no. Quindi la domanda è sono capace di andare a letto rilassato perché magari ne ho bisogno oppure ci sono persone ad esempio che lavorano e poi arrivano a casa, mangiano, guardano un po' di tv, si buttano a letto come toccano il cuscino, si risvegliano domani mattina senza l'ombra di un sogno e magari desidererebbero averne uno, ricordarne uno o magari anche no. Lì dipende dalle persone. Quindi andare a letto rilassati vuol dire che io vado a letto che ho compiuto tutto quello che dovevo compiere, mi sono, non lo so, preparato, lavato i denti eccetera e vado a letto molto tranquillo. Non vado a letto dopo che ho litigato col vicino oppure con il capo ufficio eccetera. Quindi tendenzialmente vado a letto rilassato, adesso se è sì segnatevi un punto, se è no non segnate niente. Passiamo alla seconda. Allora, oggi ho pensato ai sogni. Questo perché? Perché un sognatore di solito spesso ha dei ricordi del sogno mentre passeggia, specialmente alla mattina quando comincia ad andare a fare le sue cose, se si è ricordato i sogni, magari fantastica, pensa, cerca di capire che cosa gli voleva dire questo sogno. Quindi in questo senso ho mostrato oggi interesse ai sogni, sono parte della mia vita un po'. Quindi anche qui se pensate ai sogni o anche pensare ai sogni vuol dire anche leggere dei sogni, farsi raccontare i sogni dagli altri eccetera. Se queste cose vi succedono, le cercate, allora mettete uno, altrimenti non mettete niente. Il punto tre. Ho dei rituali onirici? Allora, io per esempio che sono un sognatore, sempre stato, e da quando sono diventata attiva, nel senso riesco a gestire la mia vita onirica, ho creato i miei rituali. Per rituale io intendo l'ametista sotto il cuscino, oppure la foto di, non lo so, un santo in cui credete, oppure Yogananda, eccetera. Un rituale è accendere una candela, un incenso, oppure un rituale può essere anche semplicemente cambiare la federa del cuscino, perché magari penso che ieri ci ho lasciato un'energia brutta perché ho pianto, allora siccome devo sognare cambio la federa profumata, buona, metto un po' di lavanda vicino. Anche mettere, per esempio, anche, che ne so, delle candele, oppure degli incensi, prepararsi al sonno, pure questo potrebbe essere un rituale, o una musica leggera, un ambiente un po' soffuso delle luci, anche quello. L'ambiente stesso della camera andrebbe tenuto conto, insomma. Certo. Quindi, per esempio, io in camera ho uno scacciasogni che ho fatto io, quindi è un mio, dopo ci passiamo, oggetto di potere. Potete farlo come volete, però dovete sentirvi rilassati e protetti in questa camera. Ecco, questo deve suscitare. Quindi qualsiasi cosa serva e funzioni per voi va benissimo. Possibilmente non la tv accesa. Sì, io sconsiglio sempre... O un film violento, magari, ecco. O la tv in camera. È un antirituale, quello. Sì, esatto. Quindi se dormite, magari, col film, che ne so, un film potrebbe essere un zero, invece che uno, uno zero. Ecco, per farvi un esempio. Quindi, ecco, evitare magari anche la televisione, anche perché spesso propone o violenza, o magari cose non proprio appropriate, che non ti predispongono a dormire. Ecco, questo. Sì, hai fatto bene a ricordarlo, perché soprattutto il campo elettromagnetico che c'è intorno alla tv o anche al telefono, non per tutti, ovviamente, ma potrebbe interferire, ecco, con i nostri sogni e anche con la serenità. Ma soprattutto, per andare a letto rilassati, bisognerebbe spegnere tutti i dispositivi un'ora prima. perché così il cervello, quando vede la luce, non produce la melatonina che ci serve per essere rilassati, per entrare nel sonno in modo adeguato. Quindi, ecco, i dispositivi andrebbero lasciati fuori dalla camera oppure... Però, ripeto, ci sono persone che hanno la tv in camera, si addormentano con la tv che conosco e che sognano a non finire. Quindi siamo tutti unici. Sì, sì, sì. Ma in generale è così. Va bene. Allora, numero quattro, ho un oggetto di potere. Queste sono cose che funzionano per ricordare i sogni o per anche l'intenzione di sognare, di fare determinati sogni. Quindi, se io ho un oggetto di potere, già sono un sognatore, perché l'oggetto di potere, come ho detto prima, può essere un oggetto della bisnonna, la foto di un santo di qualunque religione. Può essere qualcosa che noi abbiamo trovato per terra in un momento di difficoltà e che ci è sembrato come un regalo dopo tutta questa fatica, o non lo so, o qualcosa di cui siete venuti in possesso e non sapete come, che vi è stato regalato, ma è una cosa magari che secondo voi è antica, ha un valore, eccetera. Tutto quello che vi ispira, che vi tocca in qualche modo, è e diventa un oggetto di potere. Quindi siamo noi a mettere dentro il potere nell'oggetto, perché ci crediamo. Quindi ce lo mettiamo sotto il cuscino, oppure, per esempio, io ho una pietra che mi piace molto e delle volte prima di andare a dormire la metto fra due candeline piccole e la osservo e vedo che ombra fa, perché fa un'ombra diversa ogni volta. Quindi io lì già, prima di andare a dormire, un po' sogno, vado con l'immaginazione, perché quell'ombra sembra delle volte un lupo, delle volte un coniglio, tutte forme diverse a seconda di come metto le candele. Questo è l'animo del sognatore, di chi perlomeno vuole entrare in questo mondo magico e poco comprensibile anche. Quindi se avete degli oggetti di potere, ripeto, tutto può entrare in questa categoria. Quindi può essere anche un anello che avete trovato nelle palline a due euro, che però ha un significato. Quindi queste cose sono cose che, insomma, da sognatori si fa. Anche una pietra, per esempio? Sì, ma rientra nel principio dei rituali. Quindi io faccio un rituale, è un po' come quando vado in chiesa. Quindi io vado in chiesa perché devo pregare. Il rituale lo si fa per lo stesso motivo. Ho un intento. Sono un sognatore oppure ho bisogno di una risposta. Come mai la nonna non sta bene? E cosa sarà? E allora accendiamo una candela, facciamo un po' di meditazione. Ecco, questi sono dei riti. Di solito dico perché, poi dimmi anche tu, se anche nelle persone che ti seguono è lo stesso, di solito un sognatore, uno che esplora la coscienza, medita solitamente la maggior parte. Sì, 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 assolutamente sì. Quindi i rituali, gli oggetti di potere, quelle cose lì possono essere, come dicevo prima, un mala. Noi con tutte le collane, il mala sono quegli rosari che hanno i buddhisti, oppure un tipo di incenso particolare, eccetera. Ecco, ci aiutano molto. Medito prima di dormire? Ecco, questa è la quinta domanda, quindi torniamo lì. Perché meditare è anche, io lo metterei nella fase, però dipende dall'intensità. Perché in meditazione si può arrivare anche ad avere delle visioni, delle pseudo allucinazioni, le cose più comuni che accadono, mi raccontano delle persone che, perché a me ne non succede, che vedono fotografie, una dietro l'altra, di persone che non conoscono, oppure immagini così. È perché siamo in uno stato di rilassamento. Quindi ecco che arrivando alla prima domanda, io sono capace di andare a letto rilassato perché medito. In questo senso la meditazione ci prepara e quindi è importante se meditiamo o non meditiamo. Perché meditando è come se noi, non dico, prendessimo un tranquillante, ma bene o male, calmiamo le nostre energie, ci prepariamo per andare a dormire. Quindi in questo senso la domanda, secondo me, è importante. Per lo meno, non dico tutti i giorni, sono tutte cose che non si fanno tutti i giorni. Però bene o male, se nello stile di vita ci sono queste attenzioni, siamo sempre più predisposti anche ad altre esperienze. Ecco. Allora, mi preparo a sognare. Qui, quando mi preparo a sognare, è importante anche quello perché quando vogliamo incubare un sogno, programmare un sogno o un sogno risposta, avendo il materiale dei sogni a disposizione, noi ci possiamo provare senza avere letto niente, senza magari qualcuno si prepara qualcosa sotto il cuscino oppure si tiene un blocchetto per scrivere il sogno, eccetera, eccetera. Quindi anche quello è sinonimo, insomma, di un buon sognatore che tiene il materiale pronto per segnare quello che si ricorderà la mattina. Però prepararsi a sognare significa anche come vado a letto. Quindi prima di andare a letto magari medito, ho un rituale, oppure mi premuro perché siccome voglio sognare la nonna, la nonna deve portarmi un messaggio, allora metto questo oggetto della nonna. Insomma, ci sono tutti dei preparativi a seconda delle tecniche con cui andate a letto. Se invece no, vuol dire che andate a letto e basta. Magari non vi interessa particolarmente ricordare i sogni. Ecco, queste sono sempre le alternative. Ok. Sì, spesso anche proprio il fatto di come vado a dormire. Perché a volte uno va a dormire e diceva, sono stanco, basta, non voglio pensare a niente, voglio rilassarmi, non andare a dormire, non voglio sapere niente. Quindi è come se spegnessi l'interruttore, così domani mi sveglio fresco e riposato. Diciamo, ecco, in quel modo chiaramente sì, ti prepari a rilassarti, a dormire. Quindi probabilmente sarai anche fresco e rilassato, però se tu non chiedi al sogno delle risposte, risposte non avrai. Perché chiaramente non ti approcci ad avere le risposte, cioè le risposte ci sono sempre. Però se tu non apri le finestre e non apri le orecchie, quelle risposte non le ascolti. Quindi è importante per questa la preparazione a sognare. Se dici dormo solo per riposarmi... Sì, anche perché l'inconscio siamo noi, la coscienza non dorme mai, né nel sogno, né nella veglia. Quindi la coscienza è presente quando io dico vado a letto, addirittura a me che ci sono persone che sperano di non sognare per non dover fare anche quella fatica, perché magari sono stanchi. Sì, quindi l'inconscio sa benissimo se a noi interessa. Un sognatore fa certe pratiche o un viaggiatore astrale o chi fa delle esperienze sa che queste cose sono utili perché proprio li fissa nell'inconscio. Quindi mantiene vivo un interesse che ovviamente poi si manifesta, ovviamente. perché fra un rituale e un altro c'è un intento, l'intento è un piano d'azione e la volontà di vederlo come se fosse già fatto. L'intento è partire decisi e dire io questa notte vedo la nonna, la nonna mi spiegherà questa faccenda che io non ho bene capito e quindi io poi risolvo questa cosa. Quindi come direbbe Vadib Zeland, dobbiamo farlo come se andassimo all'edicola. All'edicola il giornale c'è sempre, non c'è pericolo che non ci sia. Quindi una fiducia incrollabile in quello che stiamo facendo. Tornando al discorso di prima, tutti i rituali, la meditazione, preparare il blocchetto sul comodino, prepararsi bene con tutti i rituali a sognare, ovviamente rafforza l'intento. Perché se io faccio tutte queste cose e vuoi vedere che non otterrò un risultato, magari non è oggi, magari è domani, però succede. Quindi in questo senso ci sta tutto nella vita di un sognatore fra queste dieci cose. Quindi se andate a letto con un intento, allora mettete sì. Se invece l'intento non mi interessa, l'intento, attenzione, può anche essere voglio vedere che cosa mi fanno vedere i sogni. Quindi non ho nessun programma, ma voglio ricordare il sogno così com'è. Anche quello è un intento. Ognuno ha il suo piano. Allora, otto. Mi interesso dei sogni? Allora, se mi interesso dei sogni metto uno, se non mi interesso no. Interessarsi dei sogni intendo proprio in qualsiasi modo. Quindi, come dicevo prima, siamo curiosi se gli altri ci raccontano un sogno. Andiamo a vedere nei siti dove si interpretano che cosa vogliono dire questi sogni. Leggiamo dei libri, ascoltiamo dei video, oppure siamo interessati ai nostri stessi sogni. Perché il problema molto spesso delle persone che mi chiedono, perché io non sogno, mi dicono, oppure non ricordo i sogni, che è più corretto. È perché non c'è interesse. Quindi, eh, lo li sottovaluti, li sottovaluti, è proprio sottovalutare la funzione del sogno. Spesso capita, anche parlando tra amici, sai, mi sono sognato, io per esempio, con i colleghi, stamattina c'è un mio collega che non trovava, abbiamo cambiato ufficio e non riusciva a trovare la strada per l'ufficio. Si era perso, si è perso dentro i meandri dei vari piani del nostro, diciamo, della nostra azienda. E quindi non trovavo al posto dove stavamo noi. Io dicevo, cavolo, questo qui è uno dei sogni che faccio spesso. Quindi dicevo al mio collega. Il mio collega mi ha fatto una risatina, quindi vabbè, non ha detto nulla. Quindi ecco, non era interessato nel momento. Per farvi capire, a volte dici, sai, sogno questa cosa. E la persona ti vede in maniera un po', ti fa la risatina, ma non dà valore, è come se fosse uno scherzo, un giochetto. Invece il sogno è importante, il sogno è molto importante, quindi discutere, parlare anche dei sogni. E non è facile, perché molte persone non sono predisposte e non danno valore ai sogni. Sì, questa non predisposizione è nella famiglia, nell'educazione. Io conosco tante persone che sono come il tuo collega, però sotto sotto sognano e non lo dicono a nessuno. Si ergognano, anche perché è un argomento da più. Magari hanno degli incubi, ma è un po', lì dipende dalle credenze e l'educazione, perché è un segno di debolezza, di infantilità. Sì, 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 infantilità. Da raccontare i sogni, quindi magari uno anche li ha, ma si trattiene per mantenere l'identità che ha, insomma, quindi non li racconta. Sono tanti i motivi. Oppure ci sono persone anche che hanno avuto degli incubi, quindi hanno smesso di sognare, non vogliono neanche saperne. Quindi ecco, sì, sono tante le occasioni, i motivi per cui si possono ricordare molto poco i sogni. Ok, allora, otto, mi interesso dei sogni? Sì, anche se poco, ma comunque mi interesso, e metto uno, altrimenti metto zero. Nove, mi ricordo i sogni? Mi ricordo i sogni, quindi chi si ricorda i sogni, anche se è uno a settimana, oppure se li ricorda regolarmente, quindi almeno ogni mese, eccetera, allora mette uno. Se proprio non si ricordano, o uno all'anno, due all'anno, allora non si mette niente, perché i sogni per essere anche, diciamo, bisogna sbloccare delle volte, quando uno desidera tornare a sognare, sbloccare il comando che ha bloccato il ricordo. Quindi possono essere tante vicende, però si può fare. Dieci, ho spesso dei déjà vu, per déjà vu intendo delle cose che sentiamo, che però non si possono spiegare. Quindi ho un flash in cui mi ricordo, questo sicuramente è un sogno che ho fatto tanti anni fa, invece magari l'ho fatto stanotte. Oppure magari ho aperto una breccia, perché noi siamo esseri duali, quindi siamo maschile e femminile, siamo alti e bassi, eccetera, eccetera. Però la dualità c'è anche fra sonno e veglia e quindi fra sonno e veglia, esattamente come nel sogno, noi ci svegliamo un attimo, ogni fine del ciclo, ogni fase REM, noi per brevissimi istanti ci svegliamo. E riparte il ciclo, dalle prime quattro fasi non REM alla fase REM, poi c'è un piccolo micro risveglio e poi si riparte ancora. La stessa cosa accade nella realtà e quindi anche nella realtà ci sono degli stralci in cui acciuffiamo un pezzo di sogno, oppure abbiamo l'impressione di aver già visto qualcosa, eccetera, eccetera. Le persone che fanno attenzione a questo, quindi mettono uno, sono persone che tengono in considerazione certe esperienze e anche i sogni. Quindi è un sognatore un po' più attivo. Ecco, quindi se chi invece non ha mai un déjà vu, se ne avete avuti anche pochi, allora potete mettere uno. Se invece non ce ne sono, allora niente, mettete zero. In questo test c'è un punteggio, ci sono quattro gradi di punteggio per cui poi io vi do il risultato. Allora, se volete scrivete anche qua in chat il vostro punteggio, così poi in base al punteggio poi discutiamo i vari risultati. Quindi, riassumendo, scrivete pure chi ha fatto il vostro punteggio, se volete scrivetelo qua sotto. Vogliamo riassumere? Sì, per chi è arrivato dopo, ok. Quindi questo è un test del sognatore dove io, se la risposta è sì, mi do un punto per ogni domanda. Se invece la risposta è no, non mi do un punto. Quindi io vado a letto rilassato, sì, allora mi do un punto. Oggi ho pensato ai sogni, no, non mi do nessun punto. Ho dei rituali onirici, cioè mi preparo alla mia vita onirica, voglio sognare questa sera, me li voglio ricordare. Mi preparo in qualche modo con dei rituali, tipo mettermi sotto il cuscino qualcosa, un angioletto vicino, eccetera. Cose molto semplici che tutti possono fare. Allora, io ho fatto sette e vedo che ci stanno già dando risultati, allora c'è dieci, otto, sette, dieci, sette, quindi sì. Che bravi. Bravissimi tutti qua, vedo quei bellissimi risultati. Ma scusa che ti ho interrotto, però vedevo che volevo darti in diretta. Quindi andiamo dal sette al dieci, voi dite. Dal sette al dieci siamo altissimi. Sono tutti sognatori. Io pure soltanto sette ho fatto, vero? Sì. Scrivete pure, così cerchiamo un attimo di capire anche, e poi adesso ne parleremo pure del risultato. Sì, adesso vediamo se magari, ma comunque ripeto, se lo possono tirare giù, segnare i punti da uno a dieci e farlo anche da soli. Quindi anche chi magari vuole proporlo a qualcuno, insomma, per me va bene, l'importante è che la gente sogni sempre di più, o che sempre più persone inizino a sognare, sì. Ok, allora, qui ci sono cinque, otto, otto, sette, un altro cinque, un altro sette. Ok, allora, beh, partiamo allora dal cinque, fino al tre, se ci sono anche solo tre cose, quindi dall'uno al tre, partiamo, eventualmente poi qualcuno guarda la registrazione, dall'uno al tre, siamo dei sognatori, insomma, altalenanti. C'è poca, ci applichiamo poco, perché uno può andare a letto rilassato anche perché magari si fa una tisana, eccetera, eccetera, però non ha interesse nei sogni, quindi andare a letto rilassati vuol dire anche, non lo so, andare a fare un massaggio, venire a casa, farsi la doccia e andare a letto. Non c'entra sempre con i sogni, quindi sotto i tre punti bisogna attivare la volontà di sognare e di ricordare i sogni. Poi spiego molto brevemente per chi fosse al punto tre, come prendersi in mano, è semplicissimo, perché ricordare i sogni è una delle cose più facili. Quindi chi è sotto il tre, insomma, si deve applicare, diciamola così, per rafforzare anche gli altri punti. Ovviamente tutti questi punti non è che si fanno alla cieca, sono tutte cose molto soggettive che dobbiamo creare noi. Se le creiamo noi, hanno ancora più potere, non è che dico vado a comprare un, non lo so. Se invece mi faccio io questi miei rituali, come piacciono a me, come secondo me funzionano, o cerco i miei oggetti di potere perché ciascuno ne ha uno, allora diciamo sì, questo era quello che papà diede a mamma e quindi simboleggia l'unione, allora questo va bene per il mio intento, eccetera. Ecco, sono cose molto soggettive. Quindi dall'uno al tre, diciamo, bisogna perfezionare il proprio desiderio, anche chiedersi se si vogliono ricordare o meno i sogni e farci qualcosa. Poi dal tre al cinque siamo sognatori perché ci sono cinque punti che ci danno proprio la conferma che noi vogliamo sognare e vogliamo ricordare i sogni e vogliamo avere anche altre esperienze, però magari non abbiamo sempre voglia oppure non siamo costanti, eccetera, e quindi possiamo fare di meglio. Probabilmente, essendo sognatori, le persone entro questa categoria lo sanno benissimo e quindi quando hanno voglia si applicano di più e possono andare sicuramente anche oltre. Poi abbiamo dal sette al dieci, Michi. Sì, dal sette al dieci parecchi sono stati, parecchie persone. Beh, fino al sette. C'è stato un otto, tanti sette. Sì. Cosa possiamo dire a tutti questi otto e questi sette? Ma fino al sette c'era l'altro punteggio, è sempre un ottimo sognatore. Quindi già sette di questi punti sono commuventi anche per me, perché io ho cominciato con persone che proprio non ne sapevano niente, non sapevano come fare. Quindi è bello vedere che ci sono persone che si applicano. Uno che arriva fino al sette è una persona che si applica, indubbiamente. O anche spontaneo, ma anche i sognatori spontanei, anzi sono quelli che iniziano a scriverli e a lavorarci e cercare di capirli proprio perché arrivano così senza nessuno sforzo. Quindi uno si fa delle domande e diventa sognatore. Quelli che arrivano fino al dieci o anche sotto, beh, che dire, sono aperti a tutte le esperienze che vogliono, perché c'è la capacità. Io non è a caso che ho messo questi punti, perché anche il fatto di meditare prima di dormire, oppure i rituali e gli oggetti di potere, non è roba per tutti. Quindi arrivare al dieci vuol dire che c'è veramente grande attenzione al mondo dei sogni e quindi questo mi fa enormemente piacere, sì. Perfetto, perfetto. Bravissimi tutti quanti, vedo che insomma abbiamo tanti sognatori, eh? Eh sì, sì. Non mi aspettavo neanche io questo. Ok, vediamo, vogliamo vedere qualche domanda. Qui c'è, allora, c'è un qualche, Rosaria dice, Daniela Rosaria ti fa una domanda. Sì. Buonasera, quando mi sogno a volte mi vedo dall'esterno e a volte sono nel sogno e basta. Quindi è come se si è all'esterno, a volte invece è immerso nel sogno. Come si chiama quando si riescono a gestire i sogni? Cosa succede quando si riescono proprio a gestirli? Ok, allora, quando si riesce a gestire i sogni si è nella consapevolezza del sogno, quindi in un sogno lucido. Mentre nella parte, nel sogno in cui ti vedi dall'esterno, solitamente sono sogni che ci fanno vedere la situazione com'è, ma siccome se la vivessimo come protagonisti, probabilmente o non ce la ricordiamo, oppure ci svegliamo perché è qualcosa che da vicino proprio non possiamo vedere, allora la vediamo dall'esterno. Questo succede in molti sogni, in molti sogni, e delle volte invece sei protagonista. La consapevolezza del sogno, quindi sapere di stare sognando, è un sogno lucido, però bisogna fare una distinzione. Io molto spesso nel sogno so che sto sognando, ma poi continuo a subire il sogno perché non cambio niente. Quindi ecco, mi sono accorta magari che stavo sognando, però non avevo voglia di impegnarmi, oppure mi sono semplicemente fatta trascinare, che è semplice, dal sogno, e quindi non sono andata avanti. Ecco, quindi lucido, sogno lucido, è proprio gestire i propri sogni. Gestire i propri sogni. Far apparire quello che si vuole, andare, muoversi liberamente, decidendo. Quindi ecco. Allora, questo io... Sì, ho messo anche questo parte, tu mi hai detto di... Ho fatto bene, sì, perfetto. Questo è per tutti quelli che vogliono migliorare, arrivare al punto 10. Ci sono, oppure iniziare un percorso con i sogni, è di tenere un diario, quindi già anche lì il cervello dice, caspita, questa c'è un argomento nuovo, aspetta che raccolgo tutte le informazioni e vediamo. Quindi il cervello capisce che c'è dell'interesse, perché facciamo degli atti fisici. Scriviamo con la mano, mettiamo lì il blocchetto, scriviamo diario dei sogni 2023, quindi sono tutte azioni che coinvolgono il movimento, la vista, eccetera. Quindi se noi teniamo tutti i giorni un diario onirico, ci prepariamo come nei punti 10 che c'erano precedentemente nel test, ci prepariamo con un intento, con un rituale, magari ci scriviamo nel nostro diario onirico un sogno che vorremmo fare, quindi io stanotte voglio sognare questo, o voglio questa risposta. Allora ci scriviamo proprio la trama del film che vogliamo vedere, quindi arriverà papà, mi dirà cosa devo fare, e poi arriverà anche mio fratello, così chiarirò con lui la situazione, eccetera, eccetera. Sto sparando esempi ovviamente, però che accada o non accada subito, il cervello capisce che io voglio quelle informazioni, quindi fra pensarle e scriverle, scriverle è un'azione più forte per il nostro inconscio che capisce che cosa voglia. Quindi la preparazione, strumenti utili, il diario o un blocchetto, un registratore, come andate meglio, da tenere sul comodino, quindi è uno strumento per scrivere il sogno. Altri strumenti possono essere, come dicevo prima, le pietre, la lavanda, oppure magari delle volte per sognare proprio un sogno rituale, possiamo fare un bagno alla sera, anche quello con due candele, eccetera. Insomma, dare interesse a questi sogni. E applicare poi le varie tecniche, perché tante persone conoscono le tecniche, per esempio, di come andare a dormire, sfruttare le varie fasi del sonno, oppure al risveglio non molti sanno che non devono alzarsi di scatto, ma che se restano lì due soli minuti, senza aprire gli occhi, possono riuscire a ricordare il sogno. Quindi stanno fermi lì, tengono gli occhi chiusi, ci si gira nelle posizioni in cui si è soliti dormire e il sogno molto spesso affiora. Quindi anche tutti questi gesti, questi tentativi intensificano sempre di più la vita del sognatore. L'inconscio lavora per la nostra sopravvivenza, che è anche il nostro benessere. Quindi se noi vogliamo una cosa, lui ci aiuta sempre se non ci fa male. Quindi sono tutte cose autoinduzioni, se vogliamo. L'importante è quando sogniamo, quando al mattino ci ricordiamo qualcosa, anche se non è un sogno, anche se è solo un'immagine, un flash in cui ho visto un'aquila volare, sembrava un'aquila. Bene, scriviamo, ho sognato un'aquila, ho visto un'aquila. Ci focalizziamo sulle sensazioni, aveva le piume marroni, però anche bianche, ho sentito anche il fischio dell'ala. Ci scriviamo tutte queste cose qua e abbiamo già un sogno e quindi è già un traguardo. In questo senso sono utili tutti questi strumenti e anche magari praticare o ripetere i test fino a vedere quanto siamo intenzionati proprio a intraprendere il percorso delle esperienze del sogno.